Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sono qui su Among Us Per andare a fare una cosa stupenda In tutto ci dobbiamo classificare hacker Però non ci dobbiamo scrivere Ci dobbiamo scrivere ovviamente Senza sapere scrivere Una volta aver fatto questo nome che ci sta giusto giusto Cioè come potete vedere se scrivo non va più Quindi ci sta giusto giusto Secondo me Among Us l'hanno fatto proprio per me Come avrete già intuito sia dal nome sia dal titolo Ragazzi oggi andremo ad hackerare Mi raccomando io lo faccio solo per Youtube Voi mi raccomando non lo fate Perché magari non vi bannano Perché su questo gioco non esiste il concetto di ban Però vi diverte fino a un certo punto No il nero è mio Non ci credo Guardate se mi devo cambiare il colore Il pet mi devo cambiare tutto quanto Ma per favore Mi fai schifo nero eh F niente no C'è un italiano takua Oh ragazzi no E vabbè ragazzi ma quanti cavoli di italiani ci sono qui su Among Us Noi italiani conquisteremo Among Us Ok ragazzi adesso guardate cosa faccio Tac Visto che mi mettono ovviamente ogni giorno Ogni volta Cremate Adesso faccio una bella cosa Ok e ne no aspettate tutti Non volevo nebellare questo ok Emerge meeting Perché non capisco il perché Comunque guarda ragazzi Gabible HNZ capeggio Perché in te ne dovrebbero essere due Ma visto che ho usato le hack Troppo forte Ragazzi schifiamo Sì tanto io so chi sono Però vabbè Mi sono a tasca No off On ovviamente Ragazzi Qualcosa di spettacolare Io posso vedere chi sono Gli impostori Posso uccidere gli impostori Posso anche fare delle tasche Per far finta che io sia Non sia l'impostore Posso risponare Posso fare un sacco di cose Mi raccomando guardate questo video Fino all'ultimo Se sei arrivato a questo punto del video Commenta con Io mangio i Gro Bobby tutta la mattina Sai vero che questa parte Ne la metterò No Sì Vediamo un pochettino Laura tu hai visto troppo Laura tu hai visto assolutamente troppo Non ti doveva assolutamente permettere di vedere Un impostore mi ha ucciso Io non ci voglio credere Io veramente non ci voglio credere Che un impostore mi abbia ucciso Perché veramente qualcosa di Cioè Ma adesso no Io veramente Ma perché mi devono uccidere Stavo cercando di fare un video Ah scusa Sono risponato Fred Ma ragazzi Lo sapete che loro mi vedono morto Però mi vedono scrivere E quindi qualcosa di Troppo bello No Sì Ha Illusi Nessuno è stato scelto Ma sapete che questo Blu mi sta iniziando a dar fastidio E guardate cosa faccio Lo uccido davanti a tutti Cioè loro nessuno l'ha visto Però io l'ho ucciso Così almeno Un morto in meno Chiudiamo tutti Quante le porte Aiuto Mi si fa ad uscire Eh cavolo Ma io mi chiedo Perché io mi devo trovare Delle persone che usano hack E quindi mi hanno visto Pure da quando ero morto Non ci voglio credere Ok Mi prendo assolutamente nero Perché questa è la mia skin Fine Chiunque me la prenda È letteralmente morto Perché io uso le hack Contro E lo uccido Ma lo distruggo Eh sì 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 Eh sì Anch'io sono Turk musul Mi chiamo anch'io così Sì 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 Sono anch'io Sì ma Quello è il mio cognome Cioè Sì e questo è il mio secondo nome Ragazzi come fanno a conoscermi così tanto bene Significa che sono famoso Dai Ah sì Questo è il mio fratello Adonaturkandapsana È vero ragazzi Ma come faccio a non ricordarmi il nome di mio fratello Bah io veramente rimango stupito No Sì No 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 ma come fix l'alz No Però allora se no lo smettete di uccidermi Poi dopo io mi arrabio perché non è possibile che voi mi dobbiate uccidere così a caso Cioè dai Capite anche voi che io posso trapassare i muri Quindi dovete capire pure voi che io ogni cosa la chiudo Ok E adesso dai Uscite Uscite No Ah 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 Illuso 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 Ho sbagliato a scrivere Illuso Illuso ragazzi comunque non so come quello lì l'abbiamo fatta a non vederlo Secondo me quello lì ragazzi sapete chi era? Era un cieco Era un cieco Boom Bob Grandissimo Bob Tu sì che sei un vero Bob scelto Basta essere crewmate Ma poi dopo veramente devo usarne anche per avere Per avere l'impostore Cioè dai Io non vorrei Invece voglio Però cioè scusate non potete dirmi così Cioè io sono l'impostore ma vorrei essere una brava persona Eh però voi non mi fate essere impostore quindi non posso essere una brava persona ovviamente Ah andiamo qui Uccidiamo Kirby Eh vabbè tutti quanti qui Tutti quanti che si aiutano a vicenda Questo game non vale ragazzi Uccido qualcuno Uccido qualcuno Uccido qualcuno Ma veramente adesso Non si dovevano permettere Di uccidere un amico Non si dovevano permettere Di uccidere un po' E io Pipi pupu C'è Pipi Pupu Puuu Chiudi qua Chiudi là Chiudi su Chiudi giù Vai in giro per di qua Vai in giro per di su E poi corri ancora da lui Ciao Enderman Come stai tu qua Volevo solo dirti che mi fai schifo Quindi vai in electrical E morirei anche tu Oh Oh No ragazzi avete visto? No ragazzi Io un altro hacker Sto facendo Quella parazione Ho vinto Vi spiego che è successo Io ero Io ero solo L'hacker Ok E ho fatto Io ho fatto Come se In questo momento Io ho ucciso tutti Ok Una volta che ho ucciso tutti Però Ma ne mancavano altri due E così Se ne andavamo fuori uno Vincevamo Uno era morto Ok E quindi Ovviamente Ne mancava solamente uno Da Da togliere L'altro hacker Mi ha aiutato E ha tolto tutte le votazioni Così almeno Non potevano votare me Visto che stavano dicendo Che ero io Visto che dicevano che Io ero l'hacker Ok Qui mi ha fatto un lavoro Di squadra fenomenale Poi l'hacker è riuscito Ad uccidere l'altro E abbiamo vinto Ma What? No ragazzi È qualcosa di fenomenale E va basta Cremate Basta Non è possibile Non è possibile Ah Ah Electrical Andiamo immediatamente In electrical Facciamo finta Di far così Tac 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 Ovviamente Se votiamo tutto qua Se votiamo tutto qua Se votiamo tutto qua Oh mio dio Siamo chiusi Siamo assolutamente chiusi Aiuto Aiuto Siamo chiusi Oh mio dio Ok Scappa Scappa Aiuto Ci hanno chiusi qui Scappa Aiuto Ma non c'è veramente nessuno Ma stiamo scherzando È il green ragazzi Uuuu No 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 GTP No GTP GTP ci deve aiutare comunque GTP ci deve aiutare Hackerando tutto quanto Ci deve aiutare No è uscito Ok ragazzi Ok andiamo tutti qua In electrical Saccheggiamo tutto quanto qui Tutta l'area Tutta l'area Tutta l'area Ok Ma facciamo così Perché tanto loro non ci possono assolutamente vedere Andiamo qui Ok Molto bene Dead boy reported Eh ragazzi Eh ragazzi Eh ragazzi Questo è un problema Questo è un grande problema Io skipperei Skip No Sì 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 Meglio Uno e meno Sì Grandissimo Boh Eh non è di postare Perché voi votate a caso Grandissimi Mi piacere di quando votate a caso Io mi rifiuto che qui in questa lobby ci sia la Nutella Ok Perché non è possibile È un Fizz Fake pro Ma allora Fatta apposta Ma io non ci credo Io non ci voglio credere che voi fatta apposta Dai Io non ci voglio veramente credere Ma dai Ma stiamo scherzando Sono le tagliatelle di nonna Pina Sono le tagliatelle di mio zio bello Grazie a tutti per la visione Mi raccomando Chiamatevi tutti quanti Hacker NGK Dobbiamo invadere Among Us di Hacker NGK Vi ricordo di lasciare un like Iscrivetevi al canale E Ciao Cari Amici Follower In memoria Dai ragazzi Comunque Ciao a tutti